Leomouse cause I'm an albatross I'm an albatross Se è un pericolo! Pericolo! Ah, vicino il Cagliari Con Sau in aria, stoppa la palla Si gira e tira a fil di palo Pericolo! Pericolo! Sau Conclusione a fil di palo Questo è un po' sbagliato Croste alla sinistra Dove ci sono praterie E poi al centro Sau controlla, si gira Di sinistro mette a fondo campo a fil di palo Adesso prova ad attaccare Milan Tutto Dai, allora Cagliari Perché però perde palla Dai, dai, dai Poli, Menez, Menez, Menez Menez, Menezり Tiro Goal! 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 Jeremy Benetz Jeremy Benetz la messa Jeremy Benetz sto anche sputando Jeremy Benetz la messa ed è gol 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 tiro a giro, primo tiro in porta da destra a sinistra che gran gol Benetz 14 reti in campionato Jeremy Benetz la messa gran gol gran gol gran gol gran gol gran gol Jeremy Benetz Jeremy Benetz Cagliari Echidal Sau lungo lancio sulla sinistra attenzione Farias Farias entra in area Farias oh pericolo gol del Cagliari gol del Cagliari gol del Cagliari Farias la messa gol del Cagliari in contrapiede 1 a 1 gol del Cagliari Farias entra in area salta il giocatore del rosso nero e beffa Diego Lopez in uscita un minuto un minuto di gara come si è fatto dalla sinistra per il Milan quattro minuti di gioco palla in area gola gol 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 Filippo Maxes di prima intenzione di contrapazzo la messa gol 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 2 a 1 Filippo si riscatta Filippo Filippo si riscatta con questo gol di contrapazzo nell'angolino alla destra di Burkic 2 a 1 Filippo Bexas Filippo Bexas Filippo Bexas 2 a 1 occhio dottore che qui c'era però è pare di no è monito Cipitelli fallo su Cerci fuori area tagliavento sentito anche l'assistente l'arbitro allora il fallo c'è l'assistente il fallo c'è ed è netto rigore rigore al Milan assegnato un metro fettino fate metro metrino un po' meno fuori dall'area di rigore però mi devi spiegare perché gli dai il giallo perché è l'ultimo uomo preteste no non è chiaro occasione da rete dopo ha protestato gli ha fatto vedere anche la zolla capito ma è porta è salta l'uomo è chiaro occasione da rete secondo te Paolo non è chiaro c'è solo due che rientrano chi è che c'è non c'è al centro dell'area sei defilato non so se è l'ultimo uomo però è scandaloso ragazzi l'ultimo uomo non resiste più è scandaloso che aveva dato il giallo per protesto e non giallo diretto questo è un fallo secondo me è scandaloso dare un rigore che non c'è è scandaloso dare un rigore che non c'è secondo me ragazzi gli ha dato il giallo sul fallo voglio sperare che il giallo sia per il fallo esatto caccia di rigore batte Menez seguiamo il rigore recuperiamo la pubblicità vogliamo tutto il tempo per parlarne dai Tiziano dal dischetto Geremì Menez Geremì Menez Geremì 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 dal dischetto 15 gol in campionato ottavo calcio di rigore messo a segno 3 a 1 nel senso che arriva il quarto 2 contro 1 2 contro 1 Pazzini entra in aria dalla destra Pazzini tocco centrale non ci credo magari si tirava un po' più forte il Milan si mangia il gol del 4 a 1 finito 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 termine 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 e il Milan ritrova successo dopo 3 a 1 per il Milan dopo immemori fatiche Zenec Zeman esce con un'altra sconfitta che fa male al suo Cagliari in classifica doppietta con aiutino ma soprattutto eccolo qui il wall che dà il nostro titolo in zaghi è salvo almeno per questa sera o c'è un'altra sconfitta